Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, la barriera corallina di Albert, dell'episodio numero 6, Albert Babysitter. Buon ascolto. Era la vigilia dell'ultimo dell'anno e come tradizione Albert doveva festeggiare con i suoi amici mascherandosi da drago, divertendosi per tutta la serata, attendendo il nuovo anno. Ma stavolta Albert dovette rinunciare ai festeggiamenti con i suoi amici, poiché doveva badare a Venezia, la piccola focena. Purtroppo il giovane pesce non trascorse molto bene la serata. Venezia era molto imperativa e continuava a nascondersi per gioco, volendo giocare con Albert a nascondino. Fu così che Venezia misteriosamente sparì, spaventando seriamente Albert, che iniziò a cercarla ovunque sperando di trovarla. Passarono circa venti minuti da quando Venezia era scomparsa e Albert, sospettando che fosse uscita di casa, uscì fuori, continuando la ricerca. Durante il tragitto, però, Albert fu molto triste nel vedere i suoi amici festeggiare l'ultimo dell'anno senza di lui. Perciò, deluso di non aver partecipato alla festa e di non essere stato capace di prendersi cura della piccola focena, tornò a casa, dove con grande sorpresa la vide dormire beata sul suo letto. Sollevato, Albert si afficinò a Venezia, felice che non gli fosse capitato nulla di brutto. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao! Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, la barriera corallina di Albert, dell'episodio numero 7. Una notte borascosa. Buon ascolto. Albert, una volta che terminò di accudire la piccola focena a Venezia, egli si addormentò, sebbene fosse dispiaciuto di non aver partecipato alla festa dell'ultimo dell'anno con i suoi amici. In quella notte, però, accade qualcosa di molto misterioso. Il tempo si fermò e da Albert apparve un grande drago rosso, che, offeso che il giovane pesce non avesse festeggiato l'ultimo dell'anno con i suoi amici, svegliandolo, gli disse, «Svegliati, Albert. Sono molto deluso che non hai partecipato alla festa dell'ultimo dell'anno con i tuoi amici. Potevi recarti alla festa con la piccola focena, ma hai preferito rifiutare. Come puoi notare, il tempo si è fermato e sarò io a decidere quando proseguirà. Parlerai in rima finché non chiederai perdono ai tuoi amici. Arrivederci». Finito di parlare, il drago svanì, facendo proseguire il tempo, manipolando la lingua di Albert, che iniziò a parlare in rima. Preoccupato, Albert aspettò che giunse giorno, dove, chiedendo perdono ai suoi amici, ritornò a parlare normalmente, promettendo loro che avrebbero festeggiato insieme il prossimo anno. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao. Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, la barriera corallina di Albert, dell'episodio numero 8, il re dell'oceano. Buon ascolto. Dopo che Albert promise ai suoi amici che il prossimo anno l'avrebbero festeggiato insieme, giunse un giorno molto importante per tutti i pesci della barriera corallina. Infatti, Napoleone, il re Cernia, come ogni anno, doveva inaugurare la sfilata dell'atollo, dove l'oceano prendeva i colori dell'arcobaleno. Verso pomeriggio, però, un grosso baracuda, intenzionato a rovinare la festa, si nascose dietro un corallo, aspettando l'arrivo di Napoleone. Quando tutto fu pronto, Albert e i suoi amici, notando il pericoloso baracuda, nascosto dietro il corallo, cercarono di allontanarlo per evitare che rovinasse la festa. Corrado, il baracuda, arrabbiato dal comportamento di Albert e i suoi amici, disse loro, ciò che faccio è giusto. Napoleone non è degno di essere il re. È troppo spensierato e pieno di carisma. A me non piace il suo atteggiamento al tessoso. Albert, essendo un pesce di buon cuore, aiutò Corrado a conoscere meglio Napoleone, il quale, comprendendo di aver sbagliato, riuscì ad apprezzare il re, trascorrendo tutti una fantastica serata. Questo è il disegno. Bene, vi ringrazio dell'ascolto. Lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie, alla prossima. Ciao da Simone. Ciao!